Carissimi lettori, carissimi amici, carissimi redattori di contg.news, un ringraziamento per quanto avete fatto in questo anno, per la vostra attestazione di stima e di affetto verso la nostra attestata giornalistica, un ringraziamento a tutti i nostri partner, un ringraziamento veramente che vada al più profondo del cuore. Il mio augurio più profondo insieme alla carrerata di auguri che potrete poi vedere successivamente sarà quello di pace e serenità nelle vostre case, ma soprattutto di un augurio speciale, un augurio che tutti i vostri successi possano realizzarsi con l'aiuto di Dio. Senti, Dio vi benedica e ancora voi. Buon 2024 a tutti i colleghi della redazione e ai lettori di contg.news nella speranza di poter crescere nel 2024, così come abbiamo fatto in questo tratto finale di 2023. Auguri, buon anno a tutti, lo dice anche lui, lo dice anche lui. Tanti auguri a tutti i lettori di contg.news e un buon 2024 che sia ricco di pace e di serenità. Ciao a tutti, volevo farvi tanti auguri di buon anno, happy new year, tanti auguri tradizionalissimi e boomerissimi a tutti. Ciao. Amici lettori di contg.news, tanti auguri per un sereno 2024. Buon anno ed happy new year da Mara Martillotta a tutti i lettori di lettrici di contg.news. Buon anno, happy new year. Amici, con questo piccolo video voglio augurare a tutti quanti un buon 2024, che sia un anno in cui si realizzino i desideri di tutti. Auguroni. Ciao. 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 Ciao.